Possiamo partire. Come vedete ora, l'opera che ho scelto come caso da affrontare oggi, anzi sono due le opere in realtà, sono due opere che hanno lo stesso soggetto, cioè la Centauromachia. Questa, la prima, è quella di Piero di Cosimo, conservata a Londra dal National Gallery. La seconda è quella, celeberrima, di Michelangelo, conservata alla Casa Bonarroti. Partiamo da questa, che è un po' meno nota, diciamo, quella appunto di Piero di Cosimo. Si tratta in questo caso di un dipinto, di una tavola, lunga circa due metri, di cui ignoriamo completamente la storia. Quest'opera è nota dalla metà dell'Ottocento, circa, quando era a Firenze, presso un antiquario. Viene poi venduta in Inghilterra e, dopo alcuni passaggi collezionistici, e dopo aver raggiunto anche una certa fama, quando appunto si trova in Inghilterra, l'opera, verso la fine dell'Ottocento, entra alla National Gallery. Ma non si sa nulla di preciso sulla sua destinazione originaria, sulla sua funzione originaria, sulla sua cronologia, che è molto discussa. Pensate solo che per quest'opera di Piero di Cosimo, fino a qualche anno fa, direi fino alla mostra del 2016, tenuta agli uffizi su questo grande artista fiorentino, le proposte cronologiche alternavano, ballavano, di circa 25 anni di tempo, dagli anni Ottanta del Quattrocento, fino agli anni Dieci del Cinquecento. Quindi con una collocazione cronologica completamente diversa in anni particolarmente importanti per lo sviluppo sia del linguaggio figurativo italiano, sia nel percorso di Piero di Cosimo. Dico subito che poi vi spiegherò perché. Per me questo dipinto è un dipinto da collocare negli anni Ottanta del Quattrocento, alla fine degli anni Ottanta del Quattrocento, tra il 1485 circa e il 90, in quella che è la più convincente ricostruzione dell'attività di Piero di Cosimo. Poi vedremo anche meglio perché si può fissare con una certa precisione, in realtà, la cronologia di quest'opera. Comunque se andate sul sito della National Gallery, voi trovate 1510 circa per quest'opera, quindi con una collocazione davvero completamente diversa. Quello che invece non è dubbio di questa tavola è il significato, il tema iconografico. In questo dipinto Piero di Cosimo ha rappresentato quella che è probabilmente la più complessa, la più articolata e anche la più ricca di riferimenti testuali, come vedremo, Centauromachia del Rinascimento italiano. Il rapporto con la fonte letteraria, cioè con Ovidio, con un brano delle metamorfosi del dodicesimo libro, è talmente puntuale, talmente stringente, in moltissimi punti del dipinto, che si può tranquillamente ipotizzare che Piero di Cosimo abbia avuto appunto la commissione, come vedremo poi da parte di un ricco fiorentino, di dipingere questo tema e che si sia poi, come dire, ispirato al testo ovidiano, ai versi delle metamorfosi. Nel dodicesimo libro la Centauromachia è descritta a lungo, ci sono circa 300 versi, anzi sono un po' di più, sono 350 versi, in cui appunto Ovidio, all'interno di una pausa del dodicesimo libro, che è un libro epico, in cui i protagonisti sono i guerrieri che combattono intorno alle mura di Troia, durante una pausa delle lotte, Nestore, il vecchio Nestore, il vecchio indovino, racconta appunto agli eroi omerici in questo momento di pausa appunto la vicenda della Centauromachia. È un testo che mi piacerebbe leggere, non abbiamo il tempo di leggere integralmente, perché è troppo lungo, ve lo riassumerò, ve lo parafraserò guardando i dettagli di questo affascinante dipinto. Penso che davvero sia uno dei dipinti in assoluto più ovidiani mai realizzati nel corso del Rinascimento. Casca bene ovviamente, perché come sapete il 2018 è il bimillenario della morte di Ovidio, sono previste mostre molto importanti, ci sarà una grande mostra alle scuderie del Quirinale su questo argomento, e quindi è un tema, come dire, particolarmente attuale, per così dire. Dunque, vediamo qualche dettaglio. un'opera che va vista nei particolari. Cominciamo dalla parte destra. In questa rissa abbastanza caotica e confusa che colpisce a prima vista l'occhio dell'osservatore, in realtà si possono ennucleare alcuni dettagli significativi e importanti anche dal punto di vista tematico. Ad esempio, il gruppo centrale, che domina la parte destra della composizione, con questo centauro che ha afferrato una donna dei lapiti per i capelli e che viene colpito da un lapita che sta per scagliargli addosso una brocca di metallo, è puntualmente descritto nel testo di Ovidio, laddove appunto Ovidio racconta che cosa è avvenuto durante appunto questo banchetto nuziale. Sapete com'è l'antefatto della centauromachia? C'è un banchetto nuziale alle nozze di Pirito e di Podamia, Pirito e i re dei lapiti. Vengono invitati anche i centauri che sono parenti di Pirito, però i centauri, essendo esseri semi-umani, in parte animali e in parte umani, non sanno resistere, diciamo, alla seduzione offerta dalle donne dei lapiti, perdono il controllo, si buttano sulle donne, cercano di rapirle e da lì scoppia questa rissa tremenda, questa zuffa, anzi come viene chiamata, tra appunto i centauri e i lapiti. Qui appunto vediamo uno dei punti fondamentali, questo è il centauro che dà origine a tutta la rissa, si chiama Eurito, ha afferrato per i capelli appunto la regina dei lapiti, Podamia, e questo alle sue spalle è Teseo, che sta con una brocca di metallo sul punto di uccidere il centauro lussurioso. Quindi uno dei momenti fondamentali della storia. Attorno a questo si vedono altri dettagli descritti puntualmente da Ovidio, come ad esempio alcuni dettagli molto curiosi, come questo centauro che come arma ha afferrato una specie di lampadario, di candelabro. Ovviamente la zuffa è una zuffa improvvisata, quindi non ci sono armi vere e proprie, si utilizzano gli oggetti del banchetto nuziale, un altro centauro addirittura sta scagliando un altare fumante contro un lapita. Sullo sfondo si vedono altri dettagli, anche qui descritti puntualmente da Ovidio, come ad esempio la scena di Pirito, che sta scagliando una lancia contro un centauro che si intravede all'estrema destra, trafiggendolo. Oppure sul fondo, quella che è la conclusione del racconto, laddove uno dei protagonisti della storia, Ceneo, tra l'altro un bizzarro personaggio che prima era una fanciulla, poi viene trasformato in un ragazzo invincibile, viene ucciso dai lapiti, visto che non poteva essere vinto, visto che il suo corpo non poteva essere ferito, ricoprendolo di tronchi d'albero e soffocandolo. Un altro dettaglio importante, sempre in questa parte iniziale del racconto, è questo gruppo all'estrema destra, dove, come vedete, si vede di nuovo un centauro piegato a terra e un lapite, anzi in questo caso dovrebbe essere di nuovo Teseo, che è balzato sulla groppa del centauro, lo sta schiacciando a terra e lo sta per uccidere con un colpo di questa specie di clava improvvisata. Tutti i dettagli, come vi dicevo, che vengono raccontati uno dopo l'altro in questa lunghissima descrizione ovidiana, che ovviamente ha uno sviluppo diacronico, e quindi ha una durata piuttosto lunga nel testo ovidiano, che viene invece, come dire, sintetizzata e sincronizzata in questo grande dipinto di Piero di Cosimo. Qui c'era il dettaglio, scusate, avevo messo anche il particolare, in cui si vede meglio la scena sul fondo con i centauri, che stanno seppellendo di alberi, di tronchi, il corpo di Ceneo. Al centro della scena si trovano due immagini piuttosto memorabili, entrambe. In secondo piano si vede una sorta di grotta, di antro, davanti alla quale è apparecchiato il picnic sull'erba, per così dire, il banchetto nuziale sopra il quale, come vedete, in questo dettaglio, è esplosa lo scontro fra i centauri e i lapiti. È una scena memorabile non solo per il sviluppo di corpi che vengono rappresentati in alcuni punti quasi inestricabile, con questi nodi di braccia e di gambe, dove appunto i centauri, le donne dei lapiti, i lapiti stessi vengono in qualche modo quasi confusi in una sorta di gruppo apparentemente inestricabile, ma anche per questa bellissima natura morta rappresentata in primo piano con questa stuoia di vimini sopra la quale è posata una candida tovaglia e sopra la quale si vedono appunto rovesciate le brocche, i calici, le coppe e tutte le vivande del banchetto nuziale che era stato apparecchiato per questa cerimonia di nozze. Tutto questo è confuso, è travolto da questo momento di violenza incontenibile che appunto si sviluppa in tutta quanta la composizione. Anche questo dettaglio apparentemente bizzarro, cioè di un centauro e di un lapita che stanno combattendo con delle clave infuocate, dei tizioni ardenti, compare anche questo puntualmente nel testo ovidiano. Quindi con un'attenzione davvero al testo che è piuttosto impressionante, rara, devo dire, anche nei dipinti di quest'epoca. In primo piano, proprio al centro della composizione, tra due tronchi secchi tagliati, si vede quello che è forse il gruppo più suggestivo di tutta la scena. C'è il dettaglio, vi faccio vedere il particolare, probabilmente uno dei punti più commoventi, devo dire, di tutta la pittura di Piero di Cosimo. Ecco, in questo caso preferisco leggere i versi ovidiani, intanto non sono numerosi, ma mi sembra interessante per capire l'interpretazione che Piero di Cosimo ne ha dato. I protagonisti sono due centauri, come vedete, un centauro maschio e un centauro femmina, Cillaro si chiama il centauro maschio, Ilonome quella femmina, che stanno abbracciandosi e stanno sul punto di scambiarsi un bacio. Vi leggo il passo. In battaglia neanche te, Cillaro, salvò la tua bellezza, se concediamo che vi sia bellezza nella vostra natura. Cioè, concedendo che i centauri possano essere belli, Cillaro era un esemplare particolarmente affascinante della razza dei centauri. Aveva una barba incipiente del color dell'oro e capelli d'oro spiovevano sulle spalle e sui fianchi. Nel volto un'amabile forza. Il collo, le spalle, le mani, il petto erano come nelle statue dei grandi artisti. Così dove è uomo, ma non è inferiore, la parte equina a quella umana. Se gli dai collo e testa sarà degno di castore. Il dorso è adatto a sedersi, a sedersi e il petto, alto, ha bei muscoli. È tutto nero, più della pece, ma ha la coda bianca e così le gambe. Molte della sua razza lo desideravano, ma se lo prese il onome, di cui nessuna era più bella, tra le femmine dei centauri che abitano nelle selve profonde. Lei sola possiede Cillaro blandendolo e amandolo e dichiarandogli amore, anche con la cura della persona, quanta può esservi con quelle membra. Lisce i capelli col pettine, si adorna quando di rosmarino e quando di rose e viole, talvolta porta gigli bianchi e due volte al giorno si lava la faccia nei ruscelli che scendono dalle foreste di Pagase e due volte si immerge nel fiume e non mette sulle spalle o sul fianco sinistro pelli che non siano eleganti di bestie scelte. Hanno uguale amore l'uno per l'altra, vagano insieme sui monti, entrano insieme nelle grotte e anche allora insieme erano entrati nelle case dei lapiti e insieme facevano guerra. È incerto l'autore del colpo ma arrivò un giavellotto dalla sinistra e ti trafisse Cillaro un po' più in basso della sutura tra il petto e il collo. Il cuore benché colpito da una ferita piccola gettò, gelò con tutto il corpo appena tolta l'arma. Subito Ilonome sostiene il corpo morente e mettendoci la sua mano lenisce la ferita ed accosta la bocca alla bocca cercando di fermare il respiro fuggente ma come lo vede morto disse parole che il clamore non fece arrivare alle mie orecchie poi si getta sull'arma che aveva trafitto il marito e morendo lo abbraccia. Quindi come vedete è una scena molto romantica quasi un Romeo Giulietta del mondo dei centauri che in qualche modo prende il centro del dipinto e diventa l'immagine centrale appunto di questa complicatissima composizione. Anche in questo caso è impressionante la fedeltà della traduzione figurativa da parte di Piero di Cosimo in realtà poi in queste traduzioni figurative Piero di Cosimo è molto abile nel partire dal testo di Ovidio e nel come dire arricchirlo con una serie di elementi che non sono presenti nel testo ma che vengono in qualche modo evocati dal testo i due tronchi spezzati ad esempio che probabilmente alludono alla morte di questi due giovani e bellissimi centauri colpisce devo dire molto e non ho saputo darmi una spiegazione questa rappresentazione del giavellotto che in realtà è dipinto come una gigantesca freccia enorme fuori scala che ha colpito il collo di Cillaro infatti alla punta insanguinata sulla sinistra scusate si vedono altre scene di lotte di violenza colpisce c'è particolarmente il gruppo con questi due lapiti che stanno tentando di bloccare un centauro che ha vedete abbracciato e sta tentando di portare via una donna anche in questo caso il nodo delle teste delle braccia delle gambe è particolarmente complicato sul fondo si vede un centauro che cade da un monte che viene trafitto da un albero anche questo compare con precisione nel testo ovidiano così come compare qui in alto sul fondo un altro centauro che sta tirando un masso dall'alto di un diruppo per colpire i lapiti sulla collina si vedono impazzare decine di centauri che corrono ovunque presi dal raptus della violenza e del desiderio mentre in primo piano l'ultima figura che chiude la composizione sulla sinistra a fare quasi da pandan con il gruppo di Teseo che lo chiudeva sulla destra si vede per l'appunto Ercole questo Ercole non c'è alcun dubbio ha la pelle di leone e ha la clava in mano che sta a sua volta colpendo sulla testa con grande violenza un centauro schiacciato a terra ora questo è il dettaglio appunto del gruppo del del salvataggio per covedire di questa donna abbracciata da un centauro torno un attimo al totale scusatemi il il dipinto è un'opera come vi dicevo che non presenta particolari problemi dal punto di vista iconografico avendo sotto mano il testo di Ovidio riusciamo a comprendere praticamente tutto anche la presenza di Ercole che non è ovvia nelle centauromachie viene spiegata in fondo nella descrizione ovidiana laddove si ricorda appunto che anche Ercole in realtà aveva preso parte allo scontro contro i centauri era anche lui invitato al banchetto nuziale di 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 colpisce devo dire all'interno della rappresentazione della centauromachia che è un tema che ha avuto una grande fortuna nel mondo antico e che ha avuto anche una certa fortuna a partire dal quattrocento la messa in evidenza proprio al centro del gruppo di Cillaro e di Ilonome di cui vi ho appena letto i versi ovidiani nella rappresentazione della centauromachia normalmente e anche nei versi ovidiani la centauromachia viene raccontata come un mito che deve in qualche modo esaltare la razionalità umana vittoriosa contro la bestialità dei centauri cioè il centauro rappresenta l'elemento negativo l'elemento appunto mezzo uomo mezzo bestia quindi incapace di controllarsi incapace di essere razionale il male per così dire mentre la vittoria dei lapiti sui centauri viene raccontata nel mito greco come un esempio appunto di vittoria del bene sul male non è un caso che anche nel mondo antico pensate alle metope del partenone questo mito avesse appunto questa funzione di rappresentare appunto la vittoria in quel caso probabilmente degli atteniesi sui persiani nella interpretazione che ne dà Piero di Cosimo in questa tavola come vi dicevo colpisce da un lato la straordinaria fedeltà al testo la capacità anche di Piero di Cosimo di organizzare questa scena così caotica in cui ci sono decine decine di personaggi in una composizione che ha una sua armonia e una sua simmetria anche se vogliamo ma soprattutto come dire la centralità dei due centauri morenti Cilla Roilonome che dovrebbero essere gli elementi negativi della storia che invece in qualche modo diventano quasi protagonisti sembra che l'interesse artistico la commozione del pittore si sia concentrato proprio su questi versi ovvidiani e abbia deciso quindi di non mettere al centro i protagonisti vittoriosi appunto Teseo Pirito o Ercole ma invece di metterli ai lati e di concentrare la visione su questo dettaglio apparentemente incongruo in cui sono appunto due centauri due centauri particolarmente belli particolarmente umanizzati come dimostra la descrizione ovvidiana a diventare protagonisti e a morire l'uno per l'altra come vedete di cosa faceva parte la centauromachia di Piero di Cosima qui ora scendiamo ovviamente nel campo delle ipotesi perché come vi ho detto nessun documento nessuna notizia delle fonti ci dà la minima il minimo aiuto per capire quale fosse l'origine e la funzione di questo dipinto l'ipotesi che oggi è più accettata dagli studiosi di Piero di Cosimo è che la centauromachia vista le dimensioni visto lo stile visto il soggetto facesse parte di un ciclo di dipinti che vedete qui mostrato in un'unica diapositiva un ciclo di dipinti di tema per lo più lucreziano dove appunto l'obiettivo del pittore era stato quello di rappresentare una sorta di racconto della civilizzazione umana una storia che prendeva spunto dal del rerum natura di lucrezio e che raccontava in modo evolutivo varie fasi dello sviluppo della storia primitiva a partire da uno dei pezzi forse più suggestivi la caccia nella foresta conservata al Metropolitan Museum di New York che probabilmente rappresentava il pezzo iniziale di questo ciclo una scena come vedete di vita primitiva di vita bestiale ferina in cui gli uomini della pietra sono obbligati a combattere contro i centauri contro i satiri contro le bestie feroci per sopravvivere quindi un mondo selvaggio primitivo dove c'è un incendio scoppiato al centro della foresta che fa sì che gli animali scappino dal folto delle selve e vengano in qualche modo catturati da questi primitivi cacciatori è una scena veramente che sembra ambientata in un passato lontanissimo e che trova confronti in alcuni versi del del derero natura di Lucrezia come vi dicevo del quinto libro poi un secondo pannello conservato anch'esso dal Metropolitan di New York dove viene raffigurata un momento successivo dove la civiltà si è cominciata in qualche modo ad evolvere e questo è chiamato il ritorno dalla caccia in cui vedete ci sono delle imbarcazioni delle primitive imbarcazioni delle zattere e delle delle barche costruite con dei tronchi non levigati che stanno tornando da una battuta di caccia e ci sono appunto questi uomini primitivi che qui hanno trovato un momento invece di sintonia con i centauri con i satiri che stanno scaricando sulla riva gli animali che sono stati catturati durante questa battuta di caccia di nuovo sul fondo si vedono degli incendi che in qualche modo hanno obbligato gli animali a scappare nell'acqua e quindi hanno aiutato queste imbarcazioni primitive durante queste catture il terzo episodio del ciclo uno dei pannelli forse più sorprendenti della pittura italiana del quattrocento l'incendio nella foresta conservato a Oxford alla Schmollean Museum rappresenta come vedete un'immagine quasi priva di figure umane si vede in realtà solo una figura che si allontana qui sulla destra un contadino perché tiene un aratro sulle spalle vestito in questo caso quindi mostrando un ulteriore progresso della civilizzazione umana una casa che si intravede anche in lontananza ma il vero soggetto del dipinto è di nuovo un incendio scatenatosi nella foresta e tutti questi animali che stanno scappando impauriti dal fuoco e che in qualche modo permettono non solo a Piero di Cosimo di rappresentare questo straordinario dipinto naturalistico che non ha quasi confronti nella pittura italiana di questo momento siamo negli anni ottanta del quattrocento ma anche di mostrare appunto un ulteriore momento di evoluzione della vita umana ecco probabilmente dopo questo episodio poteva accadere la scena della centauromachia che abbiamo appena analizzato quindi un altro momento di scontro fra in questo caso gli uomini greci i lapiti e i centauri e poi l'ultimo pannello che abbiamo di questo ciclo è un dipinto che rappresenta probabilmente la conclusione della storia questo è conservato a Sarasota in Florida dove è mostrata come vedete la costruzione di un bellissimo palazzo rinascimentale all'antica è un vero e proprio cantiere architettonico con gli operai che stanno scaricando i blocchi con gli architetti che stanno misurando le colonne come in questo caso altre figure che stanno segando un tronco di legno statue che vengono montate sull'architettura altre statue che vengono sbozzate per terra o che vengono in qualche modo finite per essere poi montate nell'architettura quindi un grande cantiere architettonico e scultorio che rappresenta con ogni probabilità il momento culminante di questa storia dell'evoluzione umana che è quella che Lucrezio racconta appunto nel quinto libro del De Re Runnatura e che ha offerto in qualche modo la traccia per raccontare in modo così originale anzi direi senza confronti la storia umana nel quattrocento fiorentino proprio questo dipinto di Sarasota che è stato possibile vedere due anni fa a Firenze agli uffizi alla mostra di Piero di Cosimo è un dipinto fondamentale perché di questo dipinto diversamente da tutti gli altri conosciamo le vicende collezionistiche sappiamo che nel cinquecento quest'opera era a Firenze nella collezione della famiglia Botti era quella famiglia che possedeva anche la velata di Raffaello oltre a molti altri capolavori e sappiamo che questa famiglia Botti aveva comprato a metà cinquecento un palazzo che era stato proprietà negli anni precedenti di Francesco del Pugliese e proprio in casa di Francesco del Pugliese Giorgio Vasari nella vita di Piero di Cosimo ricorda che Piero di Cosimo aveva dipinto un grande ciclo di storie di figure piccole che Vasari non riesce bene a comprendere di cui non capisce il significato ma che con ogni probabilità va identificato proprio nel ciclo di cui stiamo parlando e dal quale derivano questi pannelli che si sono conservati un ciclo probabilmente più vasto di cui abbiamo cinque pannelli ma che probabilmente ne comprendeva anche altri ovviamente di fronte a opere di questa complessità iconografica basate come vi dicevo su una lettura e una comprensione approfondita di fonti classiche come Ovidio e Lucrezio nasce ovviamente la domanda di come aveva potuto Piero di Cosimo che era un pittore che certamente non aveva la cultura necessaria non conosceva il latino diciamo per poter leggere direttamente tantomeno Lucrezio che era un testo difficilissimo e come dire ben poco diffuso in quel momento in Italia ma perfino Ovidio Ovidio pensate le metamorfosi vengono tradotte per la prima volta in italiano nel 1497 vengono volgarizzate in questo famoso Ovidio metamorfose vulgare che da lì in poi divulga anche presso gli artisti che non conoscevano il latino la conoscenza appunto di Ovidio delle metamorfosi Leonardo ad esempio nella sua biblioteca quando fa la lista dei libri che possedeva ricorda un Ovidio metamorfose quindi possedeva probabilmente questo video a stampa del 1497 ma la centauromachia che vi ho mostrato è un dipinto precedente quindi nasce ovviamente la domanda di come aveva potuto Piero di Cosimo non potendo leggere i testi avere questo rapporto così diretto così profondo con i testi classici è necessario ovviamente a questo punto immaginare ipotizzare un intermediario un umanista che abbia in qualche modo svolto quel ruolo di tradunion fra il committente e l'artista che in alcuni casi è documentato come vedremo tra poco per la centauromachia di Michelangelo mentre in altri casi va assolutamente ricostruito su basi congetturali ipotetiche in questo caso non sappiamo esattamente chi sia stato fra Francesco del Pugliese il committente di questo originalissimo ciclo lucreziano e ovidiano e Piero di Cosimo l'autore l'umanista che in qualche modo può avere suggerito tradotto all'artista i testi necessari per dipingere queste opere l'ipotesi più probabile tra le tante possibili è quella che punta su questo personaggio questo è un poeta di origine greca che si chiama Michele Marullo era nato a Costantinopoli era fuggito da Costantinopoli dopo il sacco il sacco della città alternava pensate l'attività di poeta latino conosceva benissimo il greco cosa rara per in quel momento e soldato di ventura aveva una vita divisa fra due attività per noi apparentemente inconciliabili negli anni 80 del 400 e 90 e a Firenze è in strettissimi rapporti con i medici pare che nessuno come questo personaggio come Michele Marullo avesse conoscenze soprattutto lucreziane nell'Italia di questo momento quindi è probabilmente il personaggio più come dire è il personaggio che più verosimilmente potrebbe avere svolto questo ruolo di consulente nei confronti appunto di Piero Di Cosimo l'altra centauromachia di cui volevo parlarvi oggi per poi metterla a confronto l'una con l'altra è appunto quella celeberrima di Michelangelo conservata a casa Buonarroti in questo caso ci troviamo in condizioni assolutamente opposte rispetto alla centauromachia di Piero Di Cosimo cioè della centauromachia di Michelangelo noi sappiamo moltissimo non tutto ovviamente non sappiamo mai tutto per fortuna ma abbiamo moltissime fonti che ce ne parlano e quindi possiamo in qualche modo ricostruire nella storia la cronologia con una certa con una certa precisione la prima fonte che parla della centauromachia di Michelangelo è una lettera scritta il 27 marzo del 1527 da un agente dei Gonzaga che si trovava a Firenze al Marchese di Mantova Federico Gonzaga forse ho messo l'immagine di Federico Gonzaga per ricordarlo anche perché come vedrete sarà il protagonista della prossima lezione che sarà dedicata proprio a Palazzo Tè quindi alla grande creazione voluta da questo straordinario committente in questa lettera questo ambasciatore gonzagesco Giovanni Borromeo che sapeva benissimo che Federico Gonzaga avrebbe voluto a tutti i costi avere nelle sue collezioni a Mantova un'opera di Michelangelo ma non era facile anzi era quasi impossibile in quel momento poter avere un originale di Michelangelo tra l'altro Federico Gonzaga che è figlio di Isabella d'Este doveva essere spinto da questo desiderio michelangelesco anche dal fatto che sua madre Isabella d'Este un originale di Michelangelo lo possedeva nel suo studiolo nella sua grotta a Palazzo Ducale il famoso cupido addormentato quello poi andato perduto anche suo zio Alfonso d'Este a Ferrara possedeva un altro originale di Michelangelo un frammento del colosso di bronzo che Michelangelo aveva realizzato a Bologna per Giulio II quindi in qualche modo questo desiderio era un desiderio fortissimo di tipo collezionistico e la gente dei Gonzaga a Firenze gli scrive dicendogli di aver visto nella casa di Michelangelo la casa dei parenti di Michelangelo dove abitava anche Michelangelo in quel momento perché sono anni in cui Michelangelo sta lavorando alla sagrestia nuova un'opera di Michelangelo e la descrive così dice un certo quadro di figure nude che combattono di marmore quale Michelangelo aveva principiato ad instanzia di un gran signore ma non è finito è braccia uno e mezzo a ogni mane quindi alto e largo un braccio e mezzo e così a vedere è cosa bellissima e vi sono più di venticinque teste e venti corpi vari e varie attitudini fanno quindi è una descrizione molto convinta tra l'altro è interessante il fatto che a questo agente dei Gonzaga il soggetto della centauromachia non interessa per nulla come vedete lo descrive come un quadro di figure nude che combattono quindi che sia una centauromachia o una rissa o una battaglia di nudi generica non interessa non interessa neanche il fatto che non sia finito perché pur non essendo finito lui dice è cosa bellissima e poi soprattutto è molto interessante in questa lettera anche l'attenzione data nella descrizione non solo le misure sono esatte ma vengono descritti venti corpi e venticinque teste ora se uno avesse la pazienza di mettersi a contare i corpi che si vedono e le teste che si vedono noi potremmo riscontrare in questa descrizione una precisione quasi matematica questa lettera rimane in realtà lettera morta per così dire perché la centauromachia non viene venduta vedremo anche perché tra poco anche se questo agente Gonzagesco l'aveva vista a casa Buonarroti aveva sperato che Michelangelo potesse liberarsene e venderla e mandarla a Mantova e quindi finalmente come dire venire incontro ai desideri collezionistici del suo principe in realtà la centauromachia rimane a Firenze e rimane in casa dei parenti di Michelangelo anche dopo che Michelangelo andrà via da Firenze e si trasferirà a Roma Vasari nel 1550 non parla della centauromachia non la conosce nell'edizione torrentiniana delle vite vasariane nella lunghissima vita di Michelangelo che peraltro nell'edizione del 1550 è particolarmente lacunosa soprattutto per quanto riguarda le prime opere di Michelangelo Vasari ancora non conosceva bene Michelangelo quindi non aveva avuto racconti precisi sulla sua infanzia sulla sua adolescenza quindi conosceva poco le opere fiorentine dei primi anni non parla della centauromachia se la dimentica probabilmente non la conosce non l'aveva mai vista quindi la prima fonte che noi abbiamo a stampa sulla centauromachia è la vita di Michelangelo Buonarroti raccolta come vedete per Ascagno Condivi pubblicata nel 1553 tre anni dopo la prima edizione delle vite vasariane vi leggo il passo perché è fondamentale dice Condivi sapete che Condivi scrive nel 1553 questa vita di Michelangelo come una sorta di risposta polemica alla vita vasariana Vasari aveva scritto delle cose che non erano piaciute troppo a Michelangelo pur esaltando Michelangelo come il più grande artista mai esistito eppure esaltando le sue opere come capolavori assoluti alcune cose alcune notizie alcuni errori anche presenti nell'edizione del 1550 avevano irritato Michelangelo al punto che Michelangelo si prende con sé questo giovane marchigiano Ascagno Condivi e quasi sotto dettatura lo spinge a scrivere una sorta di controvita di Michelangelo la vita di Condivi è interessantissima ed è valetta assolutamente insieme a quelle di Vasari proprio perché è la voce di Michelangelo che noi ascoltiamo sostanzialmente Condivi cioè ha ascoltato i racconti di Michelangelo e poi li ha messi per iscritto quindi dando vita ad una sorta di autobiografia per così dire dice così Condivi sta parlando di Michelangelo quando Michelangelo aveva circa 15 o 16 anni e quando si trovava nella casa di Lorenzo dei Medici cioè a Palazzo Medici era nella medesima casa il poliziano uomo come ognun sa e piena testimonianza ne fanno i suoi scritti dottissimo e acutissimo costui conoscendo Michelangelo di spirito elevatissimo molto lo amava e di continuo lo spronava benché non bisognasse allo studio dichiarandogli sempre e dandogli da far qualche cosa tra le quali cose un giorno gli propose il ratto di Dejanira e la zuffa dei centauri dichiarandogli a parte per parte tutta la favola messesi Michelangelo a farla in marmo di mezzo rilievo e così la impresa gli succedette che mi rammenta a udirlo dire che quando la rivede conosce quanto torto egli abbia fatto alla natura a non seguitare prontamente l'arte della scultura facendo giudizio per quell'opera quanto potesse riuscire ne ciò dice per vantarsi uomo modestissimo ma perché pur veramente si duole d'essere stato così sfortunato che per altrui colpa qualche volta sia stato senza far nulla dieci o dodici anni il che di sotto si vedrà questa sua opera ancora si vede in Firenze in casa sua e le figure sono di grandezza di palmi due in circa è un brano molto interessante come vedete perché Michelangelo siamo nel 1553 a questo punto Michelangelo ha 78 anni ma si ricorda ancora perfettamente è a Roma si trova a Roma ormai da quasi 20 anni ma si ricorda ancora perfettamente questo rilievo che aveva eseguito quando aveva 15 o 16 anni e che era rimasto a Firenze in casa sua se lo ricorda appunto così bene da ricordarsi anche da comunicare ai condivi che lo spunto lo stimolo per realizzare la centauromachia gli era venuto in casa di Lorenzo il De Medici di Lorenzo il Magnifico per mezzo per mano di Angelo Poliziano che vi mostro in un famoso ritratto di Domenico Ghirlandaio questo è un dipinto della Cappella Tornabuoni in cui ci sono appunto Marsiglio Ficino Cristoforo Landino e a destra quello che vedete sulla destra è Angelo Poliziano Poliziano in questo momento era considerato da tutti giustamente non solo un grande poeta volgare come oggi lo ricordiamo noi per la giostra ma soprattutto il più grande filologo il più grande conoscitore di letteratura latina e greca che ci fosse in Italia quindi era come dire un professore di latino e greco di straordinaria qualità per il giovanissimo Michelangelo e Michelangelo come vedete dice ricorda chiaramente che l'idea di scolpire questa tema era venuta a Poliziano e che proprio Poliziano gli avrebbe dichiarato a parte per parte tutta la favola cioè probabilmente avrebbe preso Ovidio e gli avrebbe letto attentamente quei versi ovidiani che abbiamo visto essere stati utilizzati anche da Piero di Cosimo per il suo dipinto che abbiamo in precedenza appunto analizzato di questo brano ci fa capire anche un'altra cosa perché la centauromachia pur essendo un rilievo giovanile e incompiuto gravemente incompiuto sia rimasto gelosamente conservato nelle collezioni di famiglia al punto che ancora oggi come sapete la centauromachia per fortuna è visibile a Casa Bonarroti a Firenze Michelangelo lo amava moltissimo ne vedeva in questo rilievo quasi una sorta di di promessa di tutto quello che avrebbe fatto nei decenni successivi e soprattutto vedeva in quest'opera una conferma di quel fatto che lui credeva moltissimo cioè di essere nato scultore di essere stato in qualche modo sforzato dai committenti a impegnarsi anche in altre attività soprattutto nella pittura che lui non amava ma che se si fosse dedicato sempre e solo alla scultura come lui diceva avrebbe ottenuto risultati straordinari cosa che chiaramente ha ottenuto ugualmente ma che in qualche modo rientrava nella logica Michelangelesca di vedersi come come dire predisposta alla scultura fin da quando era nato tra l'altro noi della vita di Condivi pensate che è stata scoperta non molti anni fa non molti decenni fa una un manoscritto scusate non è un manoscritto una copia stampa postillata con delle postille di mano di un allievo di Michelangelo Tiberio Calcagni uno scultore che poi ha aiutato Michelangelo nelle sue ultime opere anche la Pietà Fiorentina quella del Museo dell'opera del Duomo è stata scolpita in parte da Tiberio Calcagni e sono delle postille molto interessanti perché sono dei commenti che Michelangelo fa alla vita di Condivi c'erano ben due commenti in questo passo da parte di Michelangelo stesso lui dice anzi dice che l'arte sua è la scultura l'altra le fa e le ha fatte per compiacere ai principi mi sembra un'affermazione molto forte e poi laddove Condivi diceva appunto questa sua opera ancora si vede in Firenze in casa sua e le figure sono di grandezza di palmi due in circa c'è un'altra postilla dove appunto Michelangelo dice questa opera in casa a Fiorenza è imperfetta quindi è incompiuta cioè ribadisce che quest'opera non è stata mai portata a compimento nel 1568 esce la seconda edizione della vita vasariana quella chiamata Giuntina dove ovviamente Vasari può far tesoro delle correzioni e anche delle integrazioni presenti nella vita di Condivi e quindi in questo caso in questa seconda edizione compaiono tutta una serie di notizie che non erano presenti nella prima e tra queste anche la notizia della centauromachia Vasari ambienta la nascita della centauromachia in quella grande rievocazione cortigiana che ha a che fare col giardino di San Marco cioè Vasari racconta che Lorenzo De Medici avrebbe messo a disposizione dei giovani scultori fiorentini proprio per far rinascere l'arte della scultura un luogo un giardino non lontano da Palazzo Medici non lontano dalla Santissima Annunziata pieno di anticalie e di opere antiche e moderne per permettere appunto ai giovani scultori di esercitarsi tra questi ovviamente Michelangelo ebbe l'occasione appunto di eseguire in questo luogo le sue prime opere e appunto in questa scena del giardino di San Marco Vasari colloca la genesi della centaurachia dice così Vasari dice dove in questo tempo consigliato dal poliziano uomo nelle lettere singulare Michelangelo fece in un pezzo di marmo datogli da quel signore la battaglia di Ercole coi centauri che fu tanto bella che talvolta per chi ora la considera non par di mano di giovane ma di maestro pregiato e consumato negli studi e pratico in quell'arte ella è oggi in casa sua tenuta per memoria da Leonardo suo nipote come cosa rara che ella è quindi anche Vasari come avete riprendendo da Condivi le notizie pubblicate pochi anni prima inserisce la centaurachia come un punto fondamentale nello sviluppo del giovane del giovane Michelangelo se osserviamo la centaurachia come si presenta oggi a casa Bonarroti ci rendiamo conto non solo che l'opera è come vi dicevo prima gravemente incompiuta tutta la parte laterale tutta la parte superiore moltissimi punti delle figure guardate in questo punto ad esempio si vedono proprio i pezzi di marmo lasciati da Michelangelo per intervenire in un secondo momento quando le parti più delicate dovevano essere in qualche modo lavorate in sottosquadro e rese quasi a tutto tondo si capisce chiaramente che l'opera è stata iniziata da Michelangelo che ci ha lavorato per un certo periodo e che poi è rimasta bruscamente interrotta la causa della interruzione della centaurachia come è abbastanza chiaro appunto leggendo le fonti va individuata nella improvvisa scomparsa di Lorenzo De Medici nell'aprile del 1492 Lorenzo De Medici muore Michelangelo che era stato quasi adottato da Lorenzo De Medici deve abbandonare Palazzo Medici torna a casa sua da suo padre dei suoi fratelli è un momento di grande crisi nella sua giovinezza nella sua adolescenza questo rilievo che a quanto dicono le fonti era stato concepito da Poliziano e da Michelangelo come un dono fatto a questo gran signore Lorenzo De Medici rimane incompiuto e anche se molti studiosi moderni hanno ipotizzato che Michelangelo possa averci messo le mani successivamente possa essere intervenuto in un secondo momento sul rilievo anche per giustificare la straordinaria modernità del risultato io francamente ho sempre creduto e sono tuttora abbastanza convinto del fatto che questo rilievo sia rimasto sostanzialmente come era nell'aprile del 1492 se Michelangelo fosse intervenuto davvero sul rilievo probabilmente l'avrebbe portato a un livello di finitura diverso rispetto a quanto non vediamo oggi appunto di fronte alla centauromachia il rilievo è incompiuto in ogni dettaglio perfino vedete la superficie di quelle che sono le figure apparentemente più finite come il centauro centrale che domina la composizione in realtà mostrano la mancanza di quella patinatura finale che dovrebbe togliere come vedete le tracce degli strumenti utilizzati da Michelangelo lo scalpello la gradina per sbozzare e poi per definire le forme è veramente un'opera come dire che è rimasta bloccata di colpo ad uno stadio intermedio della lavorazione uno dei dettagli su cui recentemente la critica Michelangelesca si è come dire accanita maggiormente è questa figura di vecchio calvo che sta tenendo una pietra in mano vi faccio vedere il totale di nuovo ecco siamo qui in questo punto questo è il centauro centrale vedete anche questo è piuttosto bizzarro perché al centro della composizione c'è un centauro che è l'elemento l'eroe negativo ma l'eroe della composizione è sicuramente quello ovviamente alcuni studiosi di Michelangeleschi hanno notato come questa figura sia una sorta di anticipazione del Cristo giudice del giudizio universale quasi che Michelangelo come dire si fosse ricordato a distanza di 50 anni di questa composizione questa figura di vecchio calvo che sta tenendo una pietra in mano un vecchio lapita per scagliarla contro i centauri recentemente è stata indagata dagli studiosi di Michelangelo che hanno supposto che possa avere a che fare con un brano di Pausania dove Pausania descrive l'Atena Partenos di Fidia nella cella del Partenone e ricorda che Fidia avrebbe avuto l'ardire di autorappresentarsi come un uomo di una certa età e quindi privo di capelli rappresentandosi proprio nella scena della lotta fra i greci e le amazzoni nell'atto di scagliare un oggetto contro le amazzoni francamente non sono convintissimo di questa interpretazione perché bisognerebbe in questo caso pensare che Poliziano avesse in qualche modo suggerito a Giovanni Michelangelo oltre al tema della centauri ovidiana anche questo passo così preciso della periegesi dell'antica Grecia di Pausania però come dire non è impossibile viste le conoscenze straordinarie di Poliziano che si volesse in qualche modo fare un omaggio a Fidia al più grande scultore dell'antica Grecia in questa figura che in qualche modo poteva ad un occhio molto esperto e molto erudito ricordare il famoso autoritratto appunto che Fidia aveva collocato nell'Atena Parthenos Parthenonica appunto tra le fonti della centauri di Michelangelo gli studiosi moderni si sono ovviamente sbizzarriti e tra l'altro credo che le fonti non siano ancora state individuate tutte correttamente una delle immagini che viene sempre evocata tra le possibili opere d'arte che Michelangelo giovanissimo sedicenne doveva in qualche modo aver visto a Firenze e che poteva averlo stimolato nella idea di rappresentare questa questa zuffa così complessa di nudi che è appunto la centauromachia è questa famosissima incisione di Antonio Pollaiolo un'opera degli anni 60 del 400 che è sempre stata ritenuta un modello fondamentale per quelle scene di battaglie di nudi che poi diventeranno tipiche nell'arte fiorentina con Pollaiolo stesso con Verrocchio e poi ovviamente con Michelangelo e che culmineranno come tutti sapete nel grande cartone della battaglia di Cascina che però a questo punto è ancora di là da venire la battaglia dei nudi di Pollaiolo è particolarmente interessante questa bellissima incisione non solo perché è firmata come vedete con una certa ambizione da parte del grande scultore orafo fiorentino ma anche perché sembrerebbe rappresentare una scena sostanzialmente priva di soggetto o per meglio dire nessun nessuno studioso moderno e nessuna fonte antica è mai riuscita a chiarire il vero tema di questa rappresentazione non sembra essere un tema mitologico non sembra essere un tema di storia antica sembra essere proprio una sorta di accademica rappresentazione di un gruppo di nudi che stanno combattendo furiosamente come vedete ma senza un nesso preciso con un tema iconograficamente identificabile con precisione sicuramente Michelangelo doveva essere come dire rimasto molto colpito dalla sapienza anatomica e anche dall'abilità con cui Pollaiola aveva costruito questa immagine in cui ci sono questi due bellissimi nudi che sembrano quasi specchiarsi l'uno nell'altro nella parte centrale dell'immagine questi che reggono la catena come vedete un altro modello questo più sicuro più preciso che Michelangelo sicuramente dovete in qualche modo avere in mente è il grande anzi non grande il bellissimo rilievo bronzeo che Bertoldo di Giovanni lo scultore di Casa Medici aveva modellato e poi fuso nel bronzo per un cammino di Palazzo Medici Bertoldo di Giovanni è uno scultore di grande interesse di grande qualità era stato preso da Lorenzo De Medici come una sorta di factotum artistico del palazzo delle collezioni era Bertoldo di Giovanni che Lorenzo aveva affidato la gestione del giardino di San Marco quindi sicuramente Bertoldo fu un maestro di Michelangelo un maestro poi ripudiato da Michelangelo perché in realtà né Vasari né Condivi ricordano mai il nome di Bertoldo di Giovanni ma questo rientra comprensibilmente in quella logica come dire tipica di Michelangelo di volersi costruire una sorta di biografia mitica per cui come dire Michelangelo annulla i propri maestri o ne parla malissimo come nel caso di Domenico Ghirlandaio o non ne parla affatto come nel caso di Bertoldo di Giovanni perché evidentemente la sua nascita la sua crescita di artista doveva in qualche modo apparire come qualcosa di quasi miracoloso di quasi divino quindi senza essere stato facilitato da artisti che in qualche modo l'avessero educato e messo sulla strada giusta in realtà sicuramente Bertoldo di Giovanni deve aver avuto un ruolo molto importante questa grande battaglia equestre di nudi tra l'altro è molto interessante anche perché è ripresa con grande fedeltà da un sarcofago del Camposanto Pisano un sarcofago frammentario di battaglia che è stato chiaramente studiato attentamente da Bertoldo e poi rifatto integrato nelle sue lacune e trasformato in questo bellissimo rilievo che come ci dice l'inventario di Palazzo Medici alla morte di Lorenzo 1492 si trovava collocato sopra la cappa di un camino in una delle sale di Palazzo Medici quindi un oggetto che sicuramente è un'opera d'arte che Michelangelo doveva aver visto con grande attenzione nei due anni in cui ha modo di vivere appunto nel Palazzo di Lorenzo de' Medici questo faccio vedere un dettaglio di questo bellissimo rilievo conservato oggi al Bargello a Firenze proprio al centro della scena qui laddove nel sarcofago pisano del Camposanto c'è un'enorme lacuna che ha praticamente mangiato tutte queste figure centrali e Bertoldo ha integrato le figure con questi cavalieri che combattono e ha collocato proprio al centro come vedete un Ercole a cavallo gli ha messo la clava in mano gli ha messo la pelle di leone che gli sventola sulla schiena e quindi ha trasformato la battaglia di nudi del sarcofago pisano in una battaglia di Ercole dando ad Ercole questo ruolo di protagonista che ovviamente non aveva nella fonte antica di partenza un'altra fonte che Michelangelo deve aver tenuto presente come hanno riconosciuto da tempo gli studiosi di Michelangelo è un altro bronzetto bellissimo sempre di Bertoldo di Giovanni con questo Pegaso e Bellerofonte una delle opere forse più belle qualitativamente del catalogo di questo notevolissimo allievo di Donatello che fu Bertoldo e come vedete se si confronta la posa e anche il gesto della figura appunto di Pegaso in questo bronzetto con la figura che sta avanzando con una pietra in mano in primo piano sulla centromache di Michelangelo si può riscontrare un'altra possibile fonte tenuta presente da Michelangelo nel momento in cui inventa questa composizione originalissima che è appunto la sua centauromachia da pochissimi anni da qualche anno è stato avvistato anche un altro modello archeologico in questo caso che Michelangelo può aver tenuto presente per la centauromachia un gruppo di tre faunetti uccisi da dei serpenti che stanno lottando contro dei serpenti di cui si erano perse le tracce per secoli e che è riapparso improvvisamente in un'asta di qualche anno fa e ci si è resi conto che questo gruppo era un gruppo di cui si avevano notizie nelle fonti nel 1489 c'è una lettera di un agente di Lorenzo de' Medici da Roma in cui si scrive che è stato scoperto un gruppo di tre faunetti che stanno lottando con delle serpi una specie di Lau Conte in anticipo per così dire quasi 25 no diciamo una ventina d'anni prima della scoperta reale di Lau Conte questo gruppo viene offerto in vendita a Lorenzo de' Medici Lorenzo lo compra lo porta a Palazzo Medici e quindi il gruppo era a Firenza a Palazzo Medici proprio nel momento in cui c'era Michelangelo giovane che frequentava il palazzo e se mettiamo a confronto questo gruppo con la Centauromachia noi vediamo che ci sono dei punti di contatto abbastanza impressionanti guardate la posizione del Centauro centrale che sembra in qualche modo riflettersi nella posizione del fauno di destra così come il confronto con questo avversario che gli si confronta sulla sinistra sembra essere in qualche modo evocato dal terzo faunetto quello all'estrema sinistra tutte immagini tutte fonti iconografiche che Michelangelo può avere in qualche modo avuto modo di vedere a Firenze Polaiolo Bertoldo di Giovanni questa antichità di Casa Medici più altre di cui ora non vi parlo e che vengono in qualche modo rifuse e sintetizzate in questo straordinario rilievo appunto che è la Centauromachia di Michelangelo ora se poniamo a confronto la Centauromachia di Piero di Cosimo e quella di Michelangelo due opere eseguite a Firenze in anni molto vicini la Centauromachia di Michelangelo si data con precisione perché noi sappiamo che Michelangelo entra a Palazzo Medici nel 90 e che nell'aprile del 92 quando muore Lorenzo se ne va e lascia incompiuto il rilievo quindi siamo sicuramente fra il 90 e il 92 io direi tra il 91 e il 92 probabilmente con la Centauromachia quando Michelangelo che era nato nel 75 aveva tra i 16 e i 17 anni d'età la Centauromachia di Piero di Cosimo come vi dicevo prima secondo me è un dipinto degli anni 80 del 400 quindi di pochi anni precedente ecco credo che sarebbe difficile mettere a confronto due opere eseguite eseguite nello stesso momento cronologico da due artisti fiorentini quindi nello stesso ambiente nello stesso luogo dello stesso identico tema più diverse di queste in realtà come vedete sono due opere che sembrano separate da una cesura epocale la Centauromachia di Piero di Cosimo è un'opera pienamente quattrocentesca molto attenta e molto filologica anche nella resa della fonte classica dei versi ovidiani nella traduzione dei versi ovidiani la Centauromachia di Michelangelo è un'opera invece che sembra già cinquecentesca sembra già in maniera moderna sembra già in qualche modo proiettata verso la scultura del Cinquecento in cui il tema sembra uno spunto sembra quasi un pretesto per rappresentare questa caotica apparentemente fusione di corpi quasi inestricabile dove non c'è spazio per il paesaggio non c'è spazio per uno sfondo dove in qualche modo tutto lo spazio viene occupato da queste figure umane questi nudi eroici in movimento sembra veramente come dicevo prima una promessa di ciò che Michelangelo farà negli anni successivi prima a Firenze con la battaglia di Cascina poi ovviamente a Roma con i nudi della Cappella Sistina e così via per tutta una vita sembra in qualche modo aver già messo a fuoco alcune idee fondamentali in questo prodigioso rilievo giovanile quindi siamo davvero di fronte a due opere che guardano in modo come dire opposto l'una al passato alla grande tradizione della pittura quattrocentesca fiorentina l'altra al futuro al mondo che verrà al mondo appunto della maniera moderna per chiamarla come la chiamava Giorgio Vasari eppure se guardiamo più attentamente le due immagini al di là di questa distanza epocale dal punto di vista stilistico credo che sia quasi inevitabile arrivare alla conclusione che le due opere sono nate l'una in rapporto con l'altra ci sono cioè delle somiglianze iconografiche che ci fanno pensare che le due opere abbiano una relazione abbiano un rapporto osservate ad esempio il gruppo all'estrema destra il gruppo di Teseo che balza sulla groppa del centauro e lo schiaccia a terra c'è un gruppo analogo qui nell'angolo in basso a destra nella composizione di Michelangelo ruota scusate ruotato non è girato verso destra è girato verso sinistra ma il gruppo è esattamente lo stesso c'è un centauro con gli zoccoli equini schiacciati a terra e una figura umana che gli è balzata sulla schiena e che sta per colpirla con un gesto violentissimo sulla testa oppure sulla sinistra c'è una figura qui c'è Ercole con le gambe divaricate e qui c'è appunto quella figura che abbiamo messo prima in relazione col Pegaso di Bertoldo di Giovanni oppure al centro dove nel dipinto di Piero di Cosimo c'erano i due centauri innamorati Cillaro e Ilonome anche in questo caso al centro della composizione ci sono due corpi di centauri crollati a terra ci sono tutta una serie di echi potrei continuare guardate anche la figura della donna che qui viene contesa fra un centauro e due lapiti che si ritrova qui al centro anche questa è presa per i capelli e viene in qualche modo contesa in questo incredibile nodo di braccia tra appunto varie figure che tentano o di prenderla prigioniera o di liberarla ci sono tutta una serie di riecheggiamenti fra una scena e l'altra che ci fanno capire che queste due centauri machie realizzate a Firenze in questi anni come dire non possono essere nate indipendentemente l'una dall'altra ora per lungo tempo gli studiosi di arte fiorentina del rinascimento hanno detto beh non c'è dubbio è Piero di Cosimo che ha imitato Michelangelo una conclusione apparentemente logica Michelangelo è un genio assoluto uno dei più grandi artisti mai esistiti Piero di Cosimo è un bellissimo pittore del 400 fiorentino ma certamente non è all'altezza di Michelangelo secondo le graduatorie che siamo abituati quindi è chiaramente Piero di Cosimo che ha visto la centauri machia di Michelangelo che se ne è ispirato per alcuni gruppi e che l'ha eseguita dopo ovviamente la realizzazione del rilievo di Michelangelo in realtà se facciamo un attimo di mente locale su com'era la situazione fiorentina a fine 400 ci si rende conto penso piuttosto facilmente che questo rapporto va invertito è Michelangelo che guarda Piero di Cosimo non il contrario e questo lo si può affermare su una base di pura plausibilità storica Michelangelo quando scolpisce la centauri machia è un giovane sconosciuto non aveva fatto nulla non aveva scolpito nessuna opera pubblica era un ragazzino di 16 anni che lavorava a Palazzo Medici non conosciuto da nessuno e la centauri machia è un'opera incompiuta oltretutto un'opera abbandonata a metà del suo processo evolutivo Piero di Cosimo in questo momento intorno al 1490 è uno dei tre o quattro pittori fiorentini più famosi sulla scena di Firenze con Botticelli ovviamente con Domenico Ghirlandaio con Filippino Lippi Piero di Cosimo è considerato uno degli artisti più importanti della Firenze di questo momento quindi è assolutamente implausibile che un pittore della fama e dell'importanza di Piero di Cosimo potesse in qualche modo avere guardato visto e studiato il parto di un esordiente come era Michelangelo in quel momento oltretutto un'opera incompiuta quindi non finita e quindi ritenuta secondo i canoni dell'epoca un'opera imperfetta sostanzialmente il ribaltamento di questa logica storica è frutto semplicemente del mito di Michelangelo è il mito di Michelangelo come dire ritenuto da Vasari da Condivi da tutti nel Cinquecento un artista inimitabile e inconfrontabile con qualsiasi altro che ha in qualche modo obbligato gli studiosi moderni a ritenere che Piero di Cosimo come dire non potesse essere stata una fonte di Michelangelo io invece sono convinto profondamente convinto che Michelangelo avesse guardato con attenzione tra le tante cose che ha guardato prima di scolpire la centauromachia anche questo bellissimo dipinto di Piero di Cosimo probabilmente era stato a casa di Francesco del Pugliese aveva guardato questo bellissimo ciclo di storie lucreziane che dovevano averlo colpito anche per la per la sapienza nella resa dei nudi e anche per la originalità iconografica e tra l'altro se noi andiamo a rileggere la vita vasariana di Piero di Cosimo ci rendiamo conto che Piero di Cosimo era un pittore un artista talmente lunatico talmente strano talmente solitario talmente melanconico talmente devo dire poco in linea anche con quelle che erano le idee vasariane sull'arte che sicuramente doveva stare simpatico a Michelangelo Michelangelo doveva sentire probabilmente una sorta di di sintonia spirituale nei confronti di Piero di Cosimo sapete che Michelangelo posava molto da artista solitario scontroso con un cattivo carattere incapace di andare d'accordo con i principi con i potenti era un po' una posa è anche un mito che si era costruito ma sicuramente in questo mito il modello di Piero di Cosimo doveva essere in qualche modo presente quindi come dire siamo di fronte come dicevo a due opere nate in relazione l'una con l'altra in un giro di anni vicinissimo tra l'altro questa conclusione ci aiuta anche a collocare l'accento aromachia di Piero di Cosimo sicuramente prima di quella di Michelangelo e non dopo come tuttora spesso si sostiene però appunto vorrei ribadire quello che dicevo prima per concludere in questo caso sembra quasi un caso esemplare quasi da manuale si potrebbe dire in realtà su nessun manuale che io conosco è riprodotta l'accento aromachia di Piero di Cosimo purtroppo ma potrebbe essere un caso da manuale perché davvero siamo di fronte ad un momento in cui due artisti affrontano lo stesso tema e lo interpretano dalla stessa fonte letteraria leggono la stessa fonte Michelangelo con l'aiuto di Poliziano Piero di Cosimo con l'aiuto di un altro umanista e la interpretano in due modi antitetici Piero di Cosimo come una illustrazione il più preciso possibile il più completo possibile di un di un lungo passo del poema ovidiano Michelangelo dimenticandosi praticamente il testo vedete che nessuna figura praticamente è riconoscibile con certezza mentre le figure di Piero di Cosimo si possono chiamare con i loro nomi e identificare quasi una per una nella cento aromachia di Michelangelo è difficile quasi anche identificare chi è il re dei lapiti oppure chi è Teseo se c'è o se c'è Ercole le figure sono dei nudi che stanno combattendo drammaticamente in un gorgo di violenza e di di furia fisica che in qualche modo li travolge ma la fonte di partenza la fonte letteraria viene in qualche modo del tutto travolta e dimenticata da Michelangelo nel momento in cui costruisce questa scena così straordinariamente moderna come conferma di questa modernità devo dire sconcertante della cento aromachia di Michelangelo che davvero facciamo un'enorme fatica a datare 1491-92 come va datata peraltro perché se non avessimo queste notizie la sposteremo molto più avanti nel tempo c'è un'opera con cui volevo concludere questa lezione questo bellissimo disegno di Rubens qui siamo nei primi anni del Seicento quando Rubens è in Italia e quando disegna appassionatamente tutto quello che gli capita sott'occhio ma soprattutto i grandi maestri dell'inizio del Cinquecento quindi Tiziano Raffaello Correggio Michelangelo sapete che Rubens si sposta per l'Italia continuamente va a Roma va a Manto va a Venezia e disegna continuamente cercando di approfittare di questi anni italiani per fare una sorta di corso di apprendistato sulla maniera moderna italiana cinquecentesca questo è un disegno fatto sicuramente a Firenze siamo a casa nella casa degli eredi di Michelangelo ci sono due in realtà i disegni ve ne mostro uno solo sono fatti a luce artificiale si vede dalle ombre che ci sono quindi a lume di candela probabilmente di sera o di notte e come vedete Rubens coglie nel rilievo di Michelangelo i due elementi fondamentali che sono presenti in questa in quest'opera da un lato la impressionante modernità della composizione per cui sembra quasi un rilievo barocco sembra un rilievo di primo seicento quello che lui sta disegnando non un rilievo della fine del quattrocento dall'altro coglie questa come dire carattere particolarissimo del confronto che Michelangelo ha con l'antico e torno un attimo all'immagine precedente mentre i grandi artisti pittori e scultori del quattrocento come dire avevano verso l'antichità classica un rapporto di devozione e di ammirazione quasi filiale si sentivano figli nipoti eredi della grande tradizione antica e quindi volevano in qualche modo fare di tutto per avvicinarsi per imitare con la maggiore fedeltà possibile i grandi modelli della scultura soprattutto e anche della pittura antica per Michelangelo questo confronto imitativo non basta più Michelangelo è il primo artista moderno italiano che sente il bisogno di sfidare l'antico cioè di entrare con l'antichità classica con i rilievi antichi con i sarcofagi che sono chiaramente il modello della centraromachia di Michelangelo di avere con questi modelli un rapporto non più semplicemente imitativo ma un rapporto di emulazione di sfida di gara quasi con l'antico Michelangelo vuole dimostrare di essere non solo più bravo di Donatello più bravo dei grandi pittori e scultori del 400 fiorentino ma di essere anche più bravo degli antichi una cosa che sembrava quasi una bestemmia da dire a fine 400 gli antichi erano ritenuti inimitabili in campo letterario come in campo artistico ma ben presto gli studiosi come Vasari come Condivi tutte le fonti che parlano di Michelangelo durante la sua vita come dire gli daranno la palma di aver saputo per primo come dire superare la grandezza degli artisti antichi e questa gara questa sfida continua che si vede nelle opere di Michelangelo con il mondo classico e che poi verrà ovviamente potenziata negli anni successivi quando Michelangelo si trasferirà a Roma e quando avrà modo quindi di andare a vedere dal vivo i grandi capolavori classici quando avrà modo di confrontarsi col Torso del Belvedere con l'Aucoonte ad esempio sarà un elemento che durerà per tutta la sua carriera sostanzialmente ma già nella Centauromachia l'elemento di modernità che si vede quello più sorprendente colto benissimo da Rubens in questo stupendo disegno conservato a Rotterdam è il fatto appunto di aver capito che già in questo rilievo Michelangelo sfida gli antichi non si accontenta di come dire prendere un tema classico e di rifarlo alla maniera degli antichi come Bertoldo nel bronzo di Palazzo Medici ma in qualche modo la sua ambizione è travolgente e quella in qualche modo è a 16 anni pensate quella di dimostrarsi già in questo momento più bravo di qualsiasi altro e più bravo perfino di quei grandi personaggi come Fidia Prassitele Lisippo Scopas di cui le fonti raccontavano miracoli che erano ritenuti da tutti gli umanisti come dei modelli assolutamente inimitabili bene mi ringrazio oggi non ho treni ho un treno ma molto più tardi quindi posso stare qui tranquillamente a chiacchierare senza problemi se avete domande curiosità ditemi pure o anche cose che non vi hanno convinto allora grazie allora la prima è dunque una curiosità ed è in riferimento al insomma al risultato che il giovane Michelangelo raggiunge attraverso la centauromachia al di là diciamo delle fonti iconografiche eccetera eccetera cioè quello che mi interessa è la domanda in sintesi è questa come arriva Michelangelo a questo risultato perché cioè arrivare attraverso la scultura a creare queste forme così complesse non è un gioco da ragazzi quindi ci arriva attraverso il modellato ci arriva direttamente attraverso la scultura sul marmo ci sono delle fonti che ci aprono diciamo al Michelangelo cosiddetto giovane scultore questa è la mia domanda una mia curiosità diciamo che gli storici dell'arte tentano sempre di spiegare tutto e cercano sempre delle spiegazioni razionali alle cose ogni tanto ci sono alcune opere d'arte che francamente ci spiazzano e ci lasciano devo dire per fortuna anche tutto sommato abbastanza incapaci di offrire una spiegazione piattamente razionale in realtà non abbiamo fonti che ci aiutino da questo punto di vista non c'è nessun disegno preparatorio di Michelangelo per questo rilievo sappiamo che Michelangelo normalmente disegnava prima di scolpire anche molto a lungo però poi aggrediva il marmo direttamente e aveva quell'idea che tutti conoscete come dire che si dovesse procedere per via di levare quindi aveva in mente la composizione prima di mettere mano sul marmo l'aveva perfettamente chiara nella mente e in qualche modo poi liberava le figure dal sovrappiù in qualche modo tra l'altro la centromachia è molto affascinante perché in molti dettagli si vede ancora questo marmo che deve essere tolto dalle parti secondarie come si vede questa parte superiore rimasta grezza vedete solo lavorata a gradina in cui non sappiamo cosa Michelangelo volesse realizzare il rilievo era più grande come vedete alcuni studiosi hanno pensato che qui Michelangelo volesse rappresentare uno sfondo architettonico io francamente non lo credo non mi sembra proprio plausibile sia perché la fonte non parla di sfondi architettonici parla di una scena che si svolge all'aperto davanti ad una grotta sia perché personalmente credo che non avrebbe come dire non avrebbe aiutato la composizione uno sfondo architettonico avrebbe in qualche modo forse distratto lo spettatore dal nodo di figure centrali io immagino uno sfondo invece un po' come quello della centoaronochia di Piero di Cosimo uno sfondo naturale che poteva essere stato immaginato da Michelangelo però non lo sappiamo non è mai stato realizzato è una domanda a cui non so rispondere davvero confesso abbiamo delle opere precedenti di Michelangelo la Madonna della Scala sempre conservata a casa Bonarotti nella stessa sala è un'opera che si confronta male anzi si confronta malissimo con la centauromachia anche se è stata eseguita forse negli stessi mesi perché siamo di fronte a due opere programmatiche che vanno in direzioni opposte nella centauromachia Michelangelo sfida l'antico prende proprio l'antico come modello e lo vuole sfidare vuole dimostrare di essere più bravo lui degli scultori antichi nella Madonna della Scala Michelangelo sfida Donatello e fa lo stiacciato per dimostrare di essere capace di farlo come è meglio di Donatello quindi non si riesce a confrontarle poi abbiamo i disegni disegni da giotto disegni da masaccio quelli sono disegni fatti in questi anni probabilmente quando lui era un giovane ragazzino che frequentava la Cappella Brancacci o Santa Croce per le Cappelle Bardi e Peruzzi andava a disegnare come tanti altri artisti fiorentini ma anche questi ci dicono poco ci dicono che era già uno straordinario disegnatore a 15 anni probabilmente e tra l'altro questo è il motivo per cui è stato colpito dal famoso pugno che gli ha rotto il naso perché lui sapeva di essere più bravo e non lo nascondeva se ne faceva anzi vanto non aveva la modestia non aveva il dono della modestia Michelangelo a dire il vero però pensare come un ragazzo di 16 anni possa arrivare come opera prima quasi a questo risultato così incredibilmente in anticipo su decenni di scultura successiva è abbastanza impossibile un po' come quando uno spiega di trovare le origini delle Demoiselles d'Avignon di Picasso lì abbiamo innumerevoli abbiamo migliaia di disegni di Picasso che ci aiutano a capire le fonti però c'è talvolta nella storia dell'arte la storia dell'arte non sempre procede per sviluppo lineare ma ogni tanto la storia dell'arte fa dei salti c'era quel famoso proverbio latino dice la storia non fa i salti in realtà la storia dell'arte ogni tanto fa dei salti improvvisi e qui stiamo di fronte a uno di questi salti in realtà forse c'è qualcosa che lui può aver visto e che può averlo aiutato è una fonte che non ho messo perché se la faccio vedere uno mi dice ma non c'entra niente ma lui probabilmente aveva visto aveva studiato l'adorazione dei magi di Leonardo in compiuta che è un testo di maniera moderna ancora precedente rispetto alla centauromachia in cui c'è quel gorgo di figure quel nodo di figure quella composizione fatta in modo non più prospettico ma per pura massa di personaggi che ruotano intorno alla Vergine che deve averlo a lungo fatto meditare ma non è un confronto iconografico ovviamente è un confronto puramente puramente stilistico probabilmente si è reso conto di fronte a quel grande testo incompiuto che Leonardo aveva già in qualche modo raggiunto un tipo di linguaggio che poi diventerà quello della maniera moderna del primo decennio del Cinquecento in questo momento però capire realmente come un artista di sedici anni possa arrivare a un risultato del genere noi possiamo limitarci a fare quello che abbiamo fatto oggi cioè numerare le fonti cercare di capire quali opere ha guardato quali opere ha copiato e poi certamente un'altra cosa che forse si potrebbe ragionare è l'ambiente straordinariamente stimolante di Palazzo Medici Palazzo Medici tra il 90 e il 92 quando Michelangelo ci vive tra i 15 e i 16 anni è un luogo straordinario in cui non solo ci sono migliaia di opere d'arte antiche e moderne c'è Paolo Uccello ci sono i Fiamminghi ci sono opere straordinarie collezionate dai Medici a partire da Cosimo da Piero da Lorenzo ci sono le opere antiche ma poi ci sono grandi personaggi c'è Poliziano che è di casa che è il pedagogo dei figli di Lorenzo De Medici c'è Marsiglio Ficino c'è Cristoforo Landino cioè era un luogo dove la cultura italiana si era in qualche modo c'è Botticelli che faceva la spola cioè era un luogo dove come dire forse il luogo migliore dove un giovane di genio potesse improvvisamente fiorire poi il problema è che un altro non sarebbe fiorito e Michelangelo fiorisce con questo risultato che rimane tutto sommato lo dicevo prima sconcertante possiamo limitarci essendo storici dell'arte credo a capire alcune cose razionali lasciando poi l'irrazionale nel campo dell'irrazionalità e della genialità perché poi davvero a questi livelli di genialità francamente qualcosa molto ci sfugge sempre io credo grazie poi un'altra cosa se posso chiedere lei ha detto che la figura centrale è un centauro si si guarda bene io non riesco sinceramente a bisogna avvicinarsi molto al rilievo e guardarlo un po' dall'alto ora non ho un dettaglio sufficientemente chiaro ho delle fotografie che mi aiuterebbero ma si vede che qui il torso non finisce e che continua in due zoccoli equini cioè qui c'è l'ombelico c'è il ventre e poi qui c'è una continua e certamente la parte inferiore che si intravede appena è equina del corpo quindi indubbiamente questa figura che noi penseremo essere l'eroe positivo della scena in realtà è l'eroe negativo è probabilmente quel centauro eurito il più feroce come dice Ovidio di tutti i centauri che ha dato il via allo scontro ma non mi pare che neanche nell'immagine che ho messo prima si veda bene no infatti vedete qui si intravede questo punto dove qui continua con la gamba equina insomma del centauro si diventa uno stiacciato praticamente sì è un po' schiacciato in realtà qui di stiacciato non c'è nulla perché le figure sono a tutto tondo in alcuni punti si staccano quasi completamente dal fondo sono ad alto rilievo come nei sarcofagi antichi il modello sono sarcofagi romani sicuramente se si osserva bene c'è anche una non si vede qua ma c'è anche lo stiacciato no no c'è in alcuni punti dove le figure si si assottigliano verso il fondo però l'effetto complessivo della centauromachia come vedete è un effetto di grande alto rilievo con le figure che addirittura sembrano quasi staccarsi completamente dal fondo quelle in primo piano è l'effetto opposto rispetto alla Madonna della Scala dove tutte le figure sono invece tenute in bassissimo rilievo ok grazie mi è sfuggito un passaggio questa lettura di Michelangelo che si rifà a Piero di Cosmo e quindi l'anticipazione diciamo della datazione della centauromachia di Piero di Cosmo è un'acquisizione sua professore dei suoi studi beh diciamo io l'ho sostenuta a spada tratta nel catalogo della mostra di Piero di Cosmo di due anni fa per tutta una serie di motivi per cui ho fatto una sintesi diciamo devo dire che questa nuova datazione è stata molto ben accolta dagli studiosi di Piero di Cosmo e ora sono tutti d'accordo che questo gruppo di opere debba datarsi negli anni 80 al massimo 90 del 400 mentre fino a poco fa questo dipinto veniva spiegato evocando la battaglia di Anghiari di Leonardo che secondo me è proprio è uno sbaglio clamoroso proprio da un punto di vista stilistico siamo di fronte a due cose che non c'entrano nulla Piero di Cosmo poi certamente vive anche negli anni successivi muore nel 19 se non ricordo male e ha tempo anche di guardare Leonardo e di cambiare stile a un certo punto ma qui non ha cambiato stile qui sta dipingendo come le sue prime opere quelle degli anni 80 quindi credo che non ci sia dubbio su questo ma poi ribadisco è implausibile storicamente che un grande pittore come Piero di Cosmo possa essere come dire possa aver avuto la curiosità di guardare un rilievo incompiuto di uno scultore sconosciuto che poi non aveva avuto nessuna pubblicità perché questo rilievo rimane proprietà di Michelangelo che se lo riporta a casa sua rimane confinato lì nessuno ne parla fino agli anni 20 del 500 veramente diventa implausibile mentre mi sembra plausibile che un giovane come Michelangelo che sappiamo conosceva perfettamente l'ambiente fiorentino avesse avuto curiosità e interesse anche per questi dipinti bellissimi questi capolavori di Piero di Cosimo perché sono davvero un ciclo straordinario questo per Francesco del Pugliese ora alla National Gallery non credo che abbiano cambiato la cronologia ma ci arriveranno credo perché basta rifletterci un po' meglio e poi le due mostre su Piero di Cosimo quella fatta prima in America e poi quella successiva agli Uffizi davvero hanno cambiato completamente la cronologia di questo pittore quindi hanno arretrato moltissime opere e oggi come dire la visione che abbiamo di Piero di Cosimo è molto cambiata rispetto a una ventina di anni fa e poi la cosa bizzarra lo dice in realtà se voi riprendete quel famoso saggio di Erwin Panofsky negli studi di iconologia c'è quel saggio bellissimo su Piero di Cosimo e lui in una nota parla anche della centauromachia e fa capire chiaramente che secondo lui il rapporto è così cioè è Michelangelo che ha guardato Piero di Cosimo e poi ricorda una serie di altre opere di Michelangelo scalate in tutta la sua carriera in cui dimostrano che Michelangelo almeno fino agli anni 30 del 500 continua a ricordarsi di Piero di Cosimo perfino nei disegni per Tommaso De Cavalieri ci sono delle figure che vengono riprese da dipinti di Piero di Cosimo quindi era sicuramente un artista che doveva stargli molto simpatico che doveva piacergli molto per motivi non solo caratteriali ma anche proprio per motivi stilistici era forse l'artista meno fiorentino tra i pittori fiorentini di quest'epoca il più nordico il più il più il dipinto di Oxford è incredibile sembra un quadro di un pittore tedesco è un quadro di puro paesaggio praticamente di pura natura come avete visto è un dipinto davvero impressionante quello bene allora ci vi diamo appuntamento per venerdì prossimo in quel caso parleremo di Palazzo Teamanto invece quindi ritorna Federico Gonzaga come protagonista grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti